Buongiorno a tutti, sono Valerio Grellini, ingegnere navale e job designer. Sono qui per raccontarmi brevemente, raccontare il mio percorso e parlarvi di me. Ho iniziato con l'Opnis, è una barca di 2,35 metri con una vela minuscola e un picco, mi ricordo sempre, da tenere cazzato al punto giusto. E' stato un percorso per me molto naturale, molto semplice, un percorso diciamo come se fosse costruito già da tempo per me. Dall'Opnis back at a 2,35 sono passato a fare legate a diverse classi come l'Anser 420 per poi diventare strutture di per trasferire tutto quello che avevo imparato a dei cuccioletti che avevano come me pochi anni prima sette anni. Dall'Apoli abbiamo cominciato a girare su barche un po' più grandi, fino a quando poi non sono diventato uno skip, ho girato un po' tutto il Mediterraneo con barche a vela, sia per i trasferimenti che per le famose vacanze estive in giro per il Mediterraneo con gli amici e in questo mi ha aiutato tantissimo la mia città. La mia città è Napoli che è una città fantastica, che è ricca di dolori, di contraddizioni, che si affaccia su un golfo meraviglioso, che ti permette di vivere il mare in una maniera impressionante, bellissima, dal vento alle condizioni meteo alle coste che sono fantastiche. Tutto questo mi ha portato poi a appassionarmi sempre di più, fino alla laurea in ingegneria, fino a diventare ingegnere navale e a cominciare a collaborare per diversi cantieri, quindi la produzione di barche. Quindi ecco che quel sogno è diventato in qualche modo realtà, semplice immaginare una barca, immaginarsi per mare, immaginarsi sia in vacanza, sia a vela, sia in condizioni meteo avverse e immaginarsi in quella situazione e poi trasferire tutto, tutto questo in un progetto. Ecco il mio punto di partenza, il mio progetto è molto semplice, quello di immaginare di essere a bordo, immaginare di costruire una barca per me. Quindi ogni volta io mi metto a bordo delle bacche che è il progetto, quindi il progetto nasce intorno a dei sogni, a delle esigenze da uomo di mare, da velista, quindi in maniera piuttosto naturale, ovviamente combinando le tendenze del momento, un design minimalista, delle forme funzionali, gli aspetti tecnici, gli aspetti di navigazione che ha approfondito negli anni, lo stesso post vendita, quindi anche la cura dei dettagli nei progetti legati a come puoi risolvere e intervenire sulla barca in maniera chiara, quindi in maniera definita. E tutto questo ecco che mi ha permesso di realizzare delle barche con dei cantieri che sono veramente all'avanguardia e delle barche che oggi guardo con molto piacere, sulle quali mi riconosco sia come progettista che come designer. Evolioz, l'R4, una barca che nel 2015 ha aperto la strada alle barche trasformabili, le barche affacciate sull'acqua con gli spungativi, oggi riconoscibili come un barco di fabbrica solo il 90% delle barche in commercio, fino al V8, l'ultimo 24 metri sempre per Evolioz, che è una barca che unisce la mia passione per la vela al motore, l'unione tra i due mondi che sono sempre visti molto distanti fra loro ma in realtà non lo sono, c'è una grande mistura tra i due mondi, fino all'ultimo progetto che ancora non è uscito ma a breve ne sentirete parlare di una barca che inconta le tendenze delle tecnologie future, che è una barca mossa da motori completamente elettrici, full electric, 100% elettrica, 100% green, che ha prestazioni decisamente immaginabili per pochi mesi fa, non anni fa, per pochi mesi fa. Quindi la voglia di stupire sempre, di fare progetti nuovi, di creare qualcosa di fantastico, di venire a bordo e di sognare di essere lì su quella barca che poi dopo un po' riesci a toccare, riesci a trovare e sulla quale riesci a fare il famoso sito. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti.